Prosegue il duello al vertice del campionato di promozione Sicilia a Girone A tra Unitas, Schacca e Castel Termini che si inseguono a suon di vittorie. La prima giornata di ritorno del torneo ha visto le due squadre grigentine chiudere le rispettive gare con altrettanti successi. I saccenzi, allenati da Vincenzo Piazza in rimonta, vincono per 3-1 il big match con la Folgore. Sotto di una rete al termine del primo tempo, Capitano Coco e compagni nella seconda frazione di gioco hanno reagito alla grande ribaltando il risultato. Prima il pari di Galluzzo su rigore, poi in 10 per l'espulsione di Maniscalco le altre due reti con Tummiolo e nel finale ancora Galluzzo. La vittoria consente ai saccenzi di restare al primo posto con 38 punti, uno in più dell'inseguitrice Castel Termini impegnato in trasferta con l'Ercara. Grande prova di coraggio e maturità degli uomini allenati da Pino Labianca che nell'ostica trasferta passano per 2-0. Prestazione convincente dei Granata di Castel Termini che strappano tre punti di fondamentale importanza contro un avversario forte e su un campo dove non tutti avranno vita facile. Squadra compatta in tutte le parti che cresce giorno dopo giorno, dodicesimo risultato utile consecutivo frutto di 11 vittori e un pareggio. L'empedoclina batte 1-0, rete di Ignazio Puccio, il bagheria ben messo in campo dal tecnico Marco Mineo che ha espresso un buon gioco ma non è stato mai pericoloso dalle parti di Priolo. La squadra grigiantina forgiata dall'esperto allenatore Angelo Mercante, oltre alla rete di Puccio, avrebbe potuto realizzare il raddoppio che però non è arrivato. Una squadra, quella empedoclina, che gioca bene ma realizza poco ed è su questo aspetto che il tecnico lavorerà nelle prossime settimane. Partita difficile, ha commentato a fine gara l'allenatore Mercante, siamo stati bravi a portarla a casa. La gara si è disputata allo stadio comunale di Raffanali dove attualmente l'empedoclina disputa gli incontri interni per l'indisponibilità dello stadio Collura, sottoposto a lavori di restauro. Infine il Camarat batte in casa il Lascari e si allontana dalla zona rossa mentre si ritrova nei guai la Gattopardo, sconfitta a Casteldaccia e sempre più ultima.